Buonasera a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Vehicle Tech in questo nuovo video della serie riguardo i consigli pratici. Dopo aver parlato infatti di emissioni, di cicli di test, dei veicoli, voglio fare questo video per spiegare un po' quali sono tutti gli incentivi che dà lo stato per l'acquisto di un'auto nuova. Vediamo come sono strutturati in base alle emissioni del veicolo nuovo e quali condizioni sono poste. Come sempre prima di continuare col video vi invito a lasciare un like, scrivere un commento per qualunque dubbio, consiglio o curiosità e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video e i prossimi approfondimenti. Allora dall'anno scorso al 2020 lo stato ha messo in atto una serie di incentivi chiamati ecobonus per l'acquisto di un'auto nuova. Si tratta di somme in denaro che vengono sottratte al prezzo di acquisto dell'auto, al prezzo di acquisto diciamo dal listino dell'automobile, in base a questa quantità varia, in base alla quantità di CO2 emessa dall'auto. Quindi quanto più l'auto è efficiente, inquina poco, quanto più sarà questa somma. Ci sono molte differenze in base alle auto, come vedete anche al tipo di bonus che si può ricevere. Ora ve li spiego uno a uno. Allora iniziamo con l'eco bonus vero e proprio che appunto è un bonus dato per le auto con una quantità di CO2 emessa al chilometro pari a minore o uguale a 20 grammi al chilometro e per la fascia da 20 a 60 grammi al chilometro di CO2 emessa. Ci sono due differenze. Nel caso si voglia rottamare un'auto, in questo caso la condizione necessaria è che l'auto da rottamare sia a massimo 1,04 euro. Vedete la classe di emissioni del vostro veicolo, l'omologazione euro del vostro veicolo nel libretto, come vedete qua in questa immagine. Anche se inserite la vostra targa all'interno dei portali dell'ACI, portali dell'automobilista, riuscite a capire qual è la classe euro e omologata del vostro veicolo. Quindi nel caso si voglia rottamare un veicolo con classe di emissioni minore di euro 4, si ha a diritto un incentivo di 6.000 euro per la prima fascia e 2.500 euro per la seconda fascia. Senza rottamazione questo incentivo scende a 4.000 euro e a 1.500 euro rispettivamente. Allora c'è da dire che nella fascia minore di 20 grammi al chilometro entrano in gioco praticamente soltanto le auto full electric, le auto elettriche, mentre nella fascia da 20 a 60 si tratta per lo più di auto ibride plug-in. Per vedere la differenza tra le varie architetture ibride vi invito a guardare il video che ho pubblicato riguardo appunto queste differenze. A questo bonus si aggiunge il contributo della legge bilancio in quest'anno 2021. All'anno scorso era quello del 2020, ora si è aggiornato con le specifiche del 2021 e cambiano alcune cose. Innanzitutto questo contributo può essere attivato nel momento in cui sia presente uno sconto già dal concessionario. Quindi se il concessionario vi applica al prezzo di listino dell'auto uno sconto di 2.000 euro nel caso di rottamazione o 1.000 euro nel caso di senza rottamazione, allora avete diritto anche in più a questi contributi. Per la fascia di auto minore di 20 grammi al chilometro e da 20 a 60 questo contributo si somma al precedente, mentre e vale rispettivamente 2.000 euro con rottamazione e 1.000 euro nel caso non si voglia rottamare un'auto. Mentre per la fascia di auto praticamente più acquistata dove rientrano sostanzialmente tutte le auto con motori particolarmente efficienti, ma soprattutto si parla di auto ibride, ovvero la fascia da 60 a 135 grammi al chilometro di CO2 emessa. appunto si tratta per lo più di auto full hybrid e qualche mild hybrid con motori termici particolarmente efficienti dal punto di vista delle emissioni. Allora in questo caso siamo addirittori a un incentivo di 1.500 euro dallo Stato, in questo caso la rottamazione può essere fino a un'auto anche omologata euro 5, quindi non c'è più il limite dell'euro 4 ma diventa euro 5, basta che sia immatricolata prima di gennaio 2011. La grossa differenza riguardo quest'ultimo contributo rispetto alla legge di bilancio del 2020, il cosiddetto decreto rilancio del 2000 di agosto 2020, risiede in questa fascia, infatti lo scorso anno era garantito questo sconto di 1.500 euro soltanto alle fasce da 60 a 110 grammi al chilometro, quindi era più restrittivo. Perché è stata fatta questa differenza? Perché da gennaio 2021, cioè da ora, iniziano le nuove normative sull'omologazione delle nuove vetture, ovvero i fattori di conformità del Real Driving Emission Test, ovvero del test di emissioni reali su strada. Come ho già spiegato nel video che ho precedentemente pubblicato, ve lo lascio qui in alta sinistra, quest'anno si riducono i conformity factor, cioè diventano più stringenti e quindi le auto sostanzialmente entrano anche in vigore ufficialmente e obbligatoriamente i cicli VLTP per l'omologazione. Guardate il video per capire di cosa si tratta. Allora entrano in gioco direttamente questi test che omologano l'auto in condizioni molto più vicine alla realtà, quindi il livello delle emissioni omologate si alzerà leggermente e dunque questa soglia è stata innalzata fino a 135 grammi al chilometro. In questo caso, se non si vuole rotta a mare un'auto, non si ha diritto a nessun tipo di incentivo. Allora attualmente sul sito del Ministero è specificato che i fondi per le due classi di auto meno inquinanti, quindi da 0 a 60 grammi al chilometro, sono stanziati fino al 31 dicembre 2021, mentre quelli è la fascia più comune da 60 a 135 in questo momento sono finanziati con una somma mi pare su 270 milioni fino a giugno 2021, ma non è detto che non vengano prorogati anche per i prossimi mesi, per i mesi successivi. Ovviamente ci sono delle condizioni sia sulle auto usate a rottamare che anche sul nuovo. Partiamo dal nuovo. Nel caso si rientra in questa fascia da 60 a 135 grammi al chilometro, se si vuole avere diritto a questo sconto, l'auto di 1.500 euro, quindi sommato al contributo del concessionario, l'auto non può costare più di 40.000 euro, esclusa l'IVA, però con gli optional. Quindi c'è questo limite sul prezzo di listino dell'automobile. Mentre per tutti gli sconti, nel caso di rottamazione, quindi di consegna di un veicolo usato, oltre a soddisfare le regole appunto sulla classe di emissioni, nel caso dei vari incentivi, come già ho spiegato, l'auto deve essere immatricolata al richiedente o a un suo familiare con cui convive da almeno 12 mesi. A questi incentivi, ovviamente, si vanno a sommare anche gli eventuali incentivi regionali, quindi più legati al territorio dove si vive, dove si acquista l'auto. In questo caso non posso fare un video specifico perché ci sono grosse differenti da regione a regione. Ad esempio, in Lombardia, esiste un contributo molto forte sulle auto elettriche che può portare lo sconto totale dai 10.000, quindi 6 più 2, almeno 2 di 2.000 del concessionario che garantiscono anche questi 2.000, quindi lo stato da 10.000 euro sull'acquisto di incentivo, sull'acquisto di un'auto elettrica, tant'è che per una Fiat 500e, ad esempio, all'estino da 26.000 euro arriva a circa 16.000 euro di prezzo di acquisto reale. Bene, con alcuni sconti, come per esempio in Lombardia, sulle auto elettriche, per un certo livello di ISEE e per una potenza del motore non superiore a 150 kilowatt, se non vado errato, si ha un contributo regionale di altri 8.000 euro, quindi si ha uno sconto totale di 18.000 euro all'acquisto di un'auto elettrica. Questo ovviamente è un particolare, per avere più, per conoscere gli incentivi della regione dove abitate, ovviamente andate sul sito della stessa regione dove troverete tutte le info necessarie. infatti questi sconti regionali, ripeto, si sommano a quelli statali. Allora, anche per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro su queste differenziazioni che ci sono nella scontistica degli incentivi del governo per questo anno, per promuovere l'acquisto di un'auto nuova, indipendentemente, non per forza, un'auto elettrica, che magari non tutti possono ancora avere la possibilità di possederne una, ma anche semplicemente levare dal parco circolante delle nostre strade auto inquinanti come vecchie diesel, Euro 2, Euro 3, o vecchie benzine, Euro 0, Euro 1, usate giornalmente, quindi non autostoriche. È un gran giovamento per le condizioni ambientali delle nostre città. Allora, con questo video è tutto, io vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciate un like, commentate, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!